Musica Gentili telespettatori ben ritrovati dagli studi di Torino e Canavese TV, terza edizione quotidiana del nostro telegiornale oggi mercoledì 11 di aprile. Iniziamo come di consueto con la cronaca, una maxi operazione dei carabinieri, questa mattina a Brandizzo nel corso della quale sono state arrestate 4 persone ritenute responsabili dell'atto intimidatorio che è avvenuto la sera del 10 gennaio a Tornaco in provincia di Novara, quando il portone di casa di un imprenditore edile era stato trovato crivellato da colpi di arma da fuoco. Tra i destinatari della misura cautelare figurano elementi in collegamento e legami di parentela con soggetti appartenenti all'Andrangheta. Si tratta di Guido Carbone di 36 anni, Giuseppe Carbone di 29, Francesco Ierardi di 30 anni e Davide Visentin di 31 anni. Ierardi tra l'altro ha tentato di darsi alla fuga nelle vie limitrofe alla sua abitazione, ma è stato inseguito dai carabinieri a terra e anche costantemente monitorato dall'elicottero del primo nucleo elicotteri di Volpiano e quindi quasi subito bloccato. Ed è di 21 chili di marijuana sequestrata e tre arresti il bilancio del blitz della polizia all'ex moi di Torino, le palazzine del villaggio olimpico di Torino da tempo occupate da profughi e da famiglie di migranti. In manette sono finiti tre extracomunitari tra i 23 e i 46 anni, uno dei quali latitante dopo una condanna a 8 anni e 10 mesi, sempre per reati di droga. Nei due appartamenti delle palazzine arancione e grigie sono stati sequestrati anche bilancini di precisione, un contabanconote e elettronica e la somma in contanti di ben 7.700 euro. Non si trattava di un ritrovo di fortuna, ma di un vero e proprio covo utilizzato dai criminali che gestivano lo smercio di droghe in altre zone di Torino, nelle quali è stato trovato anche un libro mastro con nomi e quantitativi precisi di droga che porterà sicuramente ulteriori sviluppi nelle indagini. E poi c'è stato un incidente oggi pomeriggio in strada per Montalenghe a Dorio. Un uomo di 43 anni, di strambino, forse a causa dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo del suo Suzuki finendo fuoristrada. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. E un masso del peso di circa 10 kg si è staccato ieri sera attorno alle 19 dalla parete rocciosa che costeggia la strada provinciale in Borgata Biotraves, piombando su un'auto in transito. Il conducente dell'auto all'improvviso ha visto piombare sul parabrezza e sul cofano il masso che ha sfondato il vetro. È riuscito subito per fortuna a fermare l'auto e ad uscire il leso. È subito scattato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Torino e di Mati, i tecnici della città metropolitana. Dopo le operazioni di sgombero dell'auto e del masso e la messa in sicurezza, la strada è stata riaperta al traffico alternato. Lasciamo per il momento la cronaca. Un master in telemedicina per operatori sanitari ma anche per ingegneri biomedici. Non un progetto proiettato nel futuro, ma la risposta ad un'esigenza reale. E' il Politecnico di Torino e avrà sede presso il Polo Universitario H di Ivrea per 25 studenti. Un progetto che la ASL TO4 ha fortemente voluto. Un master in telemedicina, la SL guarda avanti perché il futuro è anche in queste contaminazioni, in queste integrazioni, in questi servizi che possono raggiungere i cittadini ovunque. Questo sì, perché se voi vedete il piano della cronicità che ha approvato lo Stato, il Ministero della Salute all'inizio dell'anno, che adesso è in lavorazione da parte della Regione Piemonte, che ne ha approvato anche uno suo e ci sta lavorando con delle sperimentazioni, conferisce alla telemedicina un valore fondamentale sostanzialmente per raggiungere con delle prestazioni e le persone anche distanti dai luoghi tipici dove si erogano le prestazioni. E' molto importante per un'azienda sanitaria, io ritengo, attivare iniziative del genere al fine di creare al suo interno delle professionalità che sappiano districarsi in maniera importante tra le varie offerte e proposte che arrivano dal mercato, le cose veramente utili. Perché se non sappiamo distinguere ciò che è utile da ciò che è una moda, rischiamo di sprecare dei soldi, il che non è assolutamente nei nostri obiettivi. Non più tante strutture, tanti uffici, tanti palazzi, ma tante professionalità e tanta sanità che raggiunge il cittadino, un po' questo. In effetti sì, diciamo che la cultura del cittadino preferisce il solido, cioè che l'ospedale. Diciamo che il territorio lo possiamo chiamare più come un aspetto liquido del servizio, ma pian piano noi dobbiamo riuscire a costruire solidi, solidi un po' più piccoli, liquidi, vicinanza, perché deve proprio cambiare una cultura. Se oggi noi andiamo per slogan o diciamo le cose non le facciamo, la cultura non cambierà mai. Oggi stiamo facendo questo percorso. Per la scuola, master e formazione permanente del Politecnico di Torino, una nuova sfida in quel percorso di integrazione e di contaminazione fra le specializzazioni che ormai la società richiede. Un master in telemedicina, uno dei master che il Politecnico promuove, di quei master che sanno adattarsi al territorio, che sono flessibili, e questa è forse la caratteristica più bella, più importante. L'iniziativa che abbiamo oggi presentato è un'iniziativa che nasce da un'esigenza del territorio, da un'esigenza di molti soggetti, il soggetto pubblico e i soggetti privati, che hanno visto l'esigenza di una formazione di studenti, futuri studenti ormai già inseriti peraltro nel mondo professionale, sia dal lato prettamente tecnico, quindi degli ingegneri, e anche dal lato sanitario, quindi delle persone che operano già del mondo dell'ASL, del mondo sanitario. E quindi questo tipo di attività che noi stiamo facendo, è un'attività che in questo caso riguarda un settore molto specifico, molto innovativo, ma che è un po' il leitmotiv di quello che la scuola master ha impostato nei quattro anni di vita, e cioè creare delle opportunità di formazione che vadano incontro alle esigenze di innovazione che le aziende o gli enti pubblici hanno e che debbano essere soddisfatti solo creando delle nuove iniziative culturali che non nascano a tavolino, ma che nascano dietro quelle che sono le richieste dei possibili utilizzatori, poi degli studenti e delle persone che noi formiamo. Quindi noi formiamo oggi circa 20 iniziative all'anno, quest'anno arriviamo appunto a questo numero, di queste solo tre sono in qualche modo standard, come potremmo dire. Tutte le altre nascono, come si dice oggi, customizzate rispetto a delle esigenze specifiche, con delle esigenze che sono molto molto variegate. Noi andiamo dai temi molto tecnologici tipici del Politecnico, a temi come questo che vanno al confine con la sanità, a temi che riguardano le professioni ingegneristiche e la libera professione, come domani inaugureremo un master sull'ingegneria forense, quindi un tema che anche qui ha un'ibridazione rispetto ai temi che non sono ingegneristici, e ad altre configurazioni. Questo è un po' quello che noi stiamo cercando di fare in questo periodo. La flessibilità è sicuramente un valore, ma anche l'integrazione, perché dicevamo l'ingegnere, quando uno pensa al Politecnico pensa all'ingegnere, qui invece parliamo di un ingegnere che si integra con la medicina, un ingegnere che si integra con l'attività forense. Questa integrazione è forse una delle scommesse per il futuro? In qualsiasi ente, che sia azienda privata o azienda pubblica, l'ingegnere non lavora mai da solo, l'ingegnere deve produrre dei progetti che siano al servizio di qualche utente, e quindi se l'utente è sanitario deve saper parlare il linguaggio del sanitario, se l'utente è un privato cittadino deve entrare nelle esigenze, anche personale del cittadino, e così via. Quindi ormai l'ingegnere a sé stanza che progetta in uno studio, in un laboratorio isolato dal mondo, non esiste più. E torniamo alle notizie di cronaca. Cattiva conservazione degli alimenti, alcuni dei quali scaduti, e allacci abusivi della corrente e del gas, e quanto hanno scoperto gli agenti della divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura Torinese presso la pizzeria Ristorante Gennaro Esposito, un'attività in franchising della famosissima catena napoletana, in via Gioberti 70, nel quartiere San Secondo. Il titolare è stato denunciato per furto e commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione. E nonostante fosse agli arresti domiciliari in Valle d'Aosta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giorno di Pasquetta si è messo al volante ed è andato fino a Volpiano. Poi è rimasto bloccato per un guasto all'auto e per rientrare casa ha dovuto prendere un treno da Torino e così è tornato in carcere. I carabinieri lo avevano arrestato lo scorso 31 di marzo per tentato omicidio e tentata violenza sessuale ai danni di una prostituta. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, anche con la testimonianza della donna, il 18 febbraio a San Vensan l'aveva investita con l'auto dopo una lite, dopo aver provato ad avere con lei un rapporto. Durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Invece ha risarcito 12 persone che erano state derubate, ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione, oltre a mille euro di multa. Carmine Sozio, di 29 anni, residente in un campo nomadi di Torino, era stato arrestato lo scorso 6 dicembre dalla polizia. Secondo gli inquirenti sarebbe responsabile di una serie di furti che sono avvenuti in Valle d'Aosta tra la primavera e l'autunno del 2017. Uno in abitazione e altri invece in auto, parcheggiate davanti a chiese e cimiteri. E proseguiamo in questa nostra edizione del telegiornale con la nostra piccola inchiesta sulla questione delle strisce blu a Cornier. Abbiamo già visto qual è il progetto sperimentale dell'amministrazione comunale e oggi cerchiamo di capire quali sono le ripercussioni sul commercio e lo facciamo ancora da Palazzo Comunale. Strisce blu, come sempre ci sono i favorevoli e i contrari. Dal punto di vista del commercio, dei commercianti, le strisce blu rischiano di penalizzare il commercio? Allora, diciamo che il commercio è penalizzato da tante altre cose, Cornier. Quella delle strisce blu non si è ancora approvata, magari può essere anche un'alternativa a chiedere venite a Cornier che avete un modo di parcheggiare, avete altre risorse. Non conosco il soggetto delle strisce blu perché è la prima esperienza che ho, ma quello che dico a tutti i commercianti lasciateci provare perché soltanto vedere che risultato che dà, se si sbaglia, si torna indietro, tutto si può fare. In questo momento i commercianti sono un po', come si dice, sul piede di guerra, ma perché come tutte le novità porta sempre ad essere contrari e critici verso tutte. Penso che con le cifre che ci sono del parchimetro, con le zone proprio limitate dove è che vengono messe e la parte che viene richiesta ai commercianti di essere un po' anche tolleranti verso questa nuova scelta che si è fatta dall'amministrazione, mi chiedo, santo il consenso di dire proviamo, se non va io sono a disposizione di tutti, ascolto tutti, come sono venuti ad oggi chi ha avuto problemi o chi ha anche portato delle idee molto costruttive. Si vede i commercianti di Via Garibaldi con Piazza Morgando che hanno chiesto più stalli bianchi perché avevano delle difficoltà e si è accontentati. Poi ci sono altri punti dove la polemica legna sovrana su queste cose qui, però c'è qualcuno che ha anche delle cose sagge da dire perché non tutte le polemiche vengono negative, c'è anche chi ti dice servono, bisognerebbe gestirli in modo diverso, abbiamo alcune vie che ti chiedono, non siamo favorevoli, però visto che si fanno, perché non ce l'ha portata anche noi qua che abbiamo bisogno che girano le macchine? Noi ci stiamo lavorando, come dico, è la mia prima esperienza sulle strisce blu, non sono l'assessore addetto alle strisce blu, io mi occupo di commercio, di comuni di Quarnieri, però in questo momento sono vicino a tutti quanti, io sono tutti i giorni fuori a contatto sia con i commercianti che con tutta la popolazione, è ovvio che ti senti anche, come si dice, preso un po' per la giacca in questo momento perché hanno tutti dei problemi, hanno tutte delle esigenze da chiederti e delle risposte da dare, non sono sempre quelle che uno si sa da dare perché non ho mai visto come si può procedere con le strisce blu, tutti al di fuori di quelli che hanno provato, abbiamo visto che arriva l'Ole, ha successo perché io vado con la monettina, sono sicuro di trovare il parcheggio e di poter fare i miei acquisti, di poter fare la passeggiata, di poter fare tutto quanto voglio, avendo uno spazio per parcheggiare. Prima di dare dei giudizi, bisognerebbe aspettare e vedere il resoconto quale, sicuramente i commercianti potranno dire ma noi lavoriamo meno, lavoriamo di più, sono disponibile a capire tutti, stare a incontrare tutti quanti chi ha bisogno, chi manifesta veramente delle necessità di confronto. Abbiamo anche cambiato un po' di viabilità ultimamente, abbiamo messo dei sensi unici o dei parcheggi, cambiato sistema proprio nel centro cittadino, proprio per agevolare prima di tutto la sicurezza delle scuole ed agevolare chi viene in quarnia che non abbia sempre una sosta selvaggia e abbia da rispettare delle regole che ci sono, perché non è detto che se non c'è un parcheggio segnato puoi parcheggiare lo stesso o parcheggiare davanti all'uscio di casa della gente. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del Telegiornale, grazie di essere stati con noi e buona serata. Grazie.